Non è la prima volta che Gian Piero Gasperini viene accostato al Napoli. Il profilo dell'allenatore orobico è saltato fuori più volte nei periodi di vacazio sulla panchina azzurra, dal post Sarri fino al dopo Ancelotti, fino ad arrivare al possibile successore di Spalletti. Il presidente Aurelio De Laurentiis si ritrova in una situazione simile per quanto riguarda la prossima stagione. Con il futuro di Francesco Calzona legato alla Slovacchia e di conseguenza all'incertezza, il patron del club partenopeo sta sondando il terreno per individuare chi guiderà il Napoli da giugno. Gasperini è da sempre un nome che ha diviso la piazza. Per quanto in molti riconoscano in lui un validissimo tecnico, c'è sempre stata la sensazione di una sorta di indifferenza da buona parte della tifoseria napoletana. Ad ogni modo, l'eventuale approdino azzurro da parte del mister piemontese avrebbe i suoi risvolti positivi anche dal punto di vista del mercato, visto che porterebbe con sé Ederson, pedine inamovibile del centrocampo nero-azzurro. Il brasiliano, acquistato dall'Atalanta per circa 25 milioni di euro dalla Salernitana, vanta ottimi numeri in questa stagione, con sette golle e un assist messi a referto tra campionato ed Europa League, senza contare l'enorme lavoro svolto in mediana in fase di raccordo. Nelle idee di ADL e Manna sarebbe dunque il sostituto perfetto per il partente Zielischi.